Ron, è un piacere per me. Benvenuto in Puglia ancora una volta. Oggi parliamo del tuo rapporto con la casa. Che importanza ha la tua casa? È un luogo importante per te? È diventato un luogo importante per me. Viaggiando dappertutto, tutto l'anno, tutto diventa una casa. Così la mia casa è diventata molto ma molto più importante. Per me, anche se mia moglie non sarà d'accordo, avere una casa molto spaziosa è importante, con molte stanze. Io amo le case grandi. Perché mi danno la sensazione di respiro, non una sensazione claustrofobica. Ho il mio spazio per la musica, per il mio staff personale, per la mia band. È diventato un luogo dove mi sento protetto. Qual è la tua stanza preferita dove trascorri la maggior parte del tuo tempo? Il mio ufficio, che è anche la mia stanza dedicata alla musica, e la mia stanza da letto con mia moglie. Me too. Perché lei nel letto lavora a computer, lavora. È come un ufficio. Ecco perché siamo sempre lì. Il letto, quindi, è il suo ufficio. No, beh, il nostro ufficio è il nostro letto, ma il mio ufficio è in una zona separata. Qual è lo stile della tua casa? Moderna, classica? Lo stile della mia casa è europea, francese, italiana, nei vari piani. Più classica che moderna. Old fashion. Così mi piace. Molto forte, molto mascolina per me. C'è un pezzo importante presente nella tua casa? Per esempio un quadro, una scultura, oppure un regalo di qualche tuo viaggio? Un importante regalo per me, regalatomi nel mio ultimo compleanno, anno, me l'ha fatto il mio manager, che conosce Paul McCartney. E ha chiesto a Paul di farmi un regalo e scrivermi una base per la chitarra. Me l'ha donato per il mio ultimo compleanno e questo per me è stato un regalo molto, ma molto speciale. Perché i Beatles sono il gruppo che ha ispirato anche la mia musica. Non è la prima volta che sei qui in Puglia. Cosa ti piace della Puglia? L'atmosfera, il clima, una sensazione romantica, perché mia moglie vuole risposarsi qui. Per la seconda volta vuole risposarsi. E' quello che vuole mia moglie. Ci sposeremo in Puglia. Noi siamo invitati. Ti inviterò. Thank you very much. Certamente. Che cosa pensi delle donne italiane? Le donne italiane sono molto passionali, molto oneste nei sentimenti. E lo percepisco. Io amo l'Italia. Sì, molti dicono io la amo, io amo l'Italia. Ma trascorrendo molto tempo qui, posso dire che sono molto rock e molto amorevoli. Questa è la mia esperienza. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. Thank you.